Magari così, no perché giustamente i romani sanno che a via del corso c'è straci, cioè con tutto rispetto adesso non vorrei qualche negoziato L'ha detto davvero signori, qua siete tutti vestiti da via del corso No ma per chiarità, non scherzo, no ma perché poi, vieni un attimo qua, c'è un microfono, datemi un gelatino per parlare con Giovanni Cioè, grazie, che stai combinando? Ma ce l'ho andato un attimo Mentre invece c'è via del babbuino, ma loro sanno dove sta il negozio è antiquariato, però è bello perché non tutte le strade sono un percorso Invece il tuo percorso è... il suo percorso è... allora... tiè, prende Il suo percorso è stato, come dire, particolarmente audace perché lui, come tanti, confidava di poter consegnare il suo lavoro a un signore importante della musica